benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi torniamo in acqua per terminare il nostro viaggio all'interno della nuova linea dell'incrociatore dal commonwealth con l'encounter la nave tier 9 personalmente comandanti una delle navi classe cruiser tier 9 di linea non premium più forti che io abbia mai testato per wargaming un vero e proprio mostro dei mari siamo qui sulla mappa di estuario come avete visto classico quadruple cap domination in diamante 5 dico 5 supernavi per lato matchmaking difficilissimo per un tier 9 eagle contro united states main annapolis con dei yamagiri contro devastation annapolis novosibirsk e yamagiri dall'altra parte attenzione alla nostra main il classico scioppone che ha speso una valanga di soldi per quella nave nella recente asta del faro e non sa minimamente come usare quella nave ormai un problema che non si può imperversare più in world of warships giocheremo all'inizio sul cap di alfa poi effettueremo un incursione insieme alla rogero di loria che saremo delle pochissime navi alleate sulle quali potremo fare veramente affidamento seguite il match fino alla fine perché scoprirete quelli che sono tutti i segreti di questa nave straordinaria e soprattutto vedrete alla fine il punteggio che sarà sensazionale vi spoiler che faremo vedrete comunque perché sarà molto educativo da vedere se notate subito la porteria avversaria l'united states va in scouting su di noi passarà dentro sulla napoli se ne frega delantiera proprio delle navi e va e spotta praticamente mezza squadra noi cercheremo all'inizio di sfruttare quelli che sono gli isolotti di avvicinamento al cap di alfa per dare un po di supporto allo Yamagiri e al nostro sommergibile U4501 e anche perché come sapete queste navi hanno un po' il tiro a parabola comandanti l'encounter come dicevo prima nave straordinaria ha una diciamo armatura che è piuttosto particolare piuttosto vulnerabile specie al tiro delle corazzate ma offensivamente parlando questi cannoni sono dinamite perché trovano l'incendio con una facilità veramente disarmante mi basti pensare che in 27 dico 27 partite dopo il suo rilascio diciamo questa campagna anticipata a gettoni che c'è stato ho registrato 113 mila di danno medio per essere un cruiser tier 9 uscito da poco numero veramente elevatissimo come non era mai accaduto con altri cruiser sempre di questo tier come dicevo prima le sue capacità offensive sono straordinarie io lo considero un vero e proprio cerbero tier 9 perché se ci pensate ha gli stessi consumabili ha gli stessi tipo di cannoni effettivamente monta una torretta in meno ma per il resto ha un sacco di statistiche identiche al tier 10 lo si potrebbe un po' considerare come la Musashi e la Yamato sapete benissimo che la Musashi è un tier 10 depotenziato ecco questo praticamente è un tier 10 depotenziato lo potremmo considerare così per quanto riguarda poi le skill e vi farò vedere poi con il setup che ho scelto per giocarlo che è cambiato ulteriormente rispetto agli ultimi video ma TTVHP di 45750 con le skill sorrability expert e scarsa resistenza contro i siluride solamente il 13% ma questo è un po' un classico degli incrociatori anche di tier elevato qui la Preussen sta venendo in avanti fa questo grosso errore ma sta giocando in divisione se non sbaglio con la Napolis che sarà comunque un osso duro e soprattutto cercheranno di prendere subito il lato sinistro perché insieme a lui 4501 cercheranno di attaccare quel lato e la nostra flotta leggera li terrà fatica con le navi mentre a destra hanno già cominciato un po' a farsi massacrare abbiamo già perso un terzo della flotta destroyer e i nostri incrociatori da questo lato a parte noi sono veramente messi già molto molto male per quanto riguarda l'armatura dicevo prima ha una cittadella molto strana perché effettivamente è molto alta e raggiungo un fasciame di 152 millimetri con pru poppa da 25 quindi è overmatchabile anche con cannoni inferiori ai 400 ma la cosa veramente strana che poi farò vedere nella scheda è che la cittadella è sia alta ma è dannatamente corta non arriva comandanti alle due torri di prua e alla torre di poppa ma si ferma molto prima il problema è che la prua della nave è rivestita completamente da 25 mm ed è un rivestimento talmente leggero che se una battescivi trova sulla prua poi il corpo può entrare dritto sotto le torri e andare ad esplodere dritto nella cittadella della nave quello che sta vedendo in azione proprio adesso il suo fantastico radar anti sommergibile chi tra l'altro vediamo per la prima volta nella recensione di queste navi sul canale perché nelle recensioni se vi ricordate dell'uganda ma anche del cerbero e dell'okland ma abbiamo avuto l'occasione di sfruttare al massimo questo fantastico consumabile mentre come lui cresce a spottare praticamente insommergibile per 20 secondi fino a 8 km con una ricarica di circa 108 secondi e questi 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 queste capacità è veramente impressionante perché lui tra l'altro non ha un semplice attacco anti sommergibile ma un triplo attacco anti som con bombe in payload e da 3400 quindi capite che voi che sono due bombe per attacco quindi fanno sei bombe in questo veramente i nuovi incrociatori del comore sono straordinari nel combattere contro altri sommergibili ora se notate entra in azione della nostra cortina formogena altro punto di forza di queste navi è identica quella del tier 10 si tratta infatti di uno smoke perché dura circa 112 secondi ma tecnicamente potenziabile con una ricarica di 130 quindi in azione le nostre torri trainate che sono passate ora a p perché come sapete l'armatura del minotauro è tra le più leggere che si può incrociare qui anche se la nostra affascenza straordinaria tirare con i proiettili a p conviene sempre comunque perché il minotauro è veramente fatto di carta velina è messo addirittura peggio di noi da questo punto di vista il suo fondamento è quasi inevitabile tra l'altro se fossimo rimasti fino alla fine con la p forse questa salva l'avrebbe anche affondato la nostra portiera intanto riesce ad affondare la proisen che era rimasta ormai in fin di vita da questo lato e questo punto possiamo finalmente andare ad occuparci della sommergibile nemico rimasto con pochi punti vita per non parlare poi del minotauro che però è stato recentemente proprio affondato dai siluri dell'u45 01 qui virata pazzesca la nave è molto lunga non è così facile da difendere però il timone devo dire che non è affatto male risponde infatti in 10 secondi netti con un raggio vratto di 810 una velocità massima di 33 nodi è forse questo uno degli aspetti dell'encounter che a parte l'armatura non mi ha pienamente soddisfatto sto parlando ovviamente della sua velocità 33 nodi per essere un flanker sono molto molto pochi sono incrociatori che giocano sul flanker sono decisamente migliori di lui quindi in questo diciamo che lui arranca un pochettino quindi sì la velocità dell'armatura non sono sicuramente il suo forte ecco perché dovete stare molto attenti quando userete la cortina fumogena perché se non state attenti questi potrebbero accorciare e poi sarebbero dolori perché non avreste la forza e nemmeno la velocità per disimpegnare contro un avversario magari più corazzato o più veloce di voi a questo punto lo Yamagiri è all'interno del cap non stiamo facendo il giro largo perché vogliamo cercare di prenderlo un po' in controtempo anche perché se notate al centro ci sono in push l'u45 01 aiutato anche dal Gudello mentre la Ruggero Doloria per adesso resta indietro ma comunque a fine partita farà un'ottima partita anche quel giocatore lì le sue capacità stealth sono ovviamente straordinarie mentre entra in azione il fastidiosissimo radar lungodurata della Napoli come sapete è identico a quello del Des Moines e dicevo la capacità stealth è 10 chilometri e mezzo di avvistabilità via acqua e 5,9 chilometri via aria e via immersa è molto importante come dicevo anche nel video del Cerbero questo 5.9 via immersa perché perché come sapete il radar sottomarino arriva 8 chilometri e il radar sottomarino prende tutto quello che c'è dalla quota periscopio in giù fino anche alla profondità massima questo significa che se è sommergibile a quota periscopio o leggermente sotto e la vostro angolo le vostre diciamo capacità di spotting è inferiore al vostro radar e quindi c'è una sorta di possiamo definirlo ghost radar sottomarino ecco è un po' lo stesso discorso che si può fare ad esempio col Minotauro che quando usa il suo radar è spottato come sapete a 9 chilometri circa il radar a 10 quindi tutte le volte che qualcuno l'ho vista lui ti sverrà dare quella cosa che lo sta avvistando è per forza di cose dal punto di vista matematico per forza di cose è spottata qui la Yamagiri cerca di disimpegnare mentre in azione i nostri potentissimi 203 mm che trovano non solo gli incendi ma anche le varie spaccature su timone motore tutto quello che c'è a bordo della Yamagiri per lui ormai è impossibile disimpegnare anche perché ha addosso il godello che l'ha preso un po' in controtempo il suo fondamento ormai è cosa abbastanza scontata abbiamo perso se guardate completamente l'intero reparto destroyer e anche il nostro tonto marino è andato ormai a fare compagnia di pesci ma fortunatamente questa kill ci permette di arrivare a un solo destroyer di distanza e tra l'altro con un quantitivo di navi che praticamente ormai è pari anche se loro hanno tre cap a uno che potevamo effettivamente entrare nel cap ma avevamo per scontato che la la rientrasse al nostro posto di conseguenza voleva un po' vedere dove andasse la napolis per cercare poi di non farlo sfuggire anche se ancora non lo sappiamo anche la devastation sta accorciando da questa parte i suoi cannoni che tra poco entreranno nel vivo della partita contro soprattutto la napolis e la devastation sono tre torri trinati a 203 mm capaci di sparare ogni 8,6 secondi in questo veramente tanta roba sono pochi gli incrociatori che hanno un calibro così grande e sparano così velocemente soprattutto al tier 9 26 secondi di brandeggio a 180 potenziato con moduli e skill del comandante altrimenti il brandeggio è molto lento la pressione è piuttosto millimetrica 147 metri di dispersione a 16 chilometri e mezzo garantiscono un eccellente tiro in qualsiasi situazione la fire chance con le bandierine arriva al 20 per cento e questi cannoni penetra fino al 34 mm con 2950 di danno massimo una cosa che vi può tranquillamente assicurare danno incessante contro qualsiasi sovrastruttura le ap hanno l'identica baristica ad 841 metri al secondo ma arrivano però a 4350 come avevo fatto presente anche per gli altri incrociatori c'è pochissima distanza effettiva di danno tra i proiettili ap e il proiettile incendiare ecco perché molto spesso si abusa tantissimo del proiettile h e quando si utilizza questo genere di navi qui la napoli si ha ricaricato veramente i suoi su radar in un attimo infatti è riuscito subito a riutilizzarlo ma fortunatamente l'isola e un po' anche l'angolatura della nave ci salva le situazioni assai peggiori il problema è che la devastation come stiamo anche linkando al giocatore con la reggione del oria è poco lì più avanti e qui tra poco dovremmo fare i conti contro la terza super nave perché di fatto abbiamo affondato la napolis e partecipato all'affondamento dello yamagiri quindi possiamo dire che a parte la portaerei e anche la super corazzita che però è già sul fondo dell'oceano le abbiamo sostanzialmente affrontate tutte da questo lato brevemente tutte dicevo per quanto riguarda poi le secondarie perché ha anche queste questa nave sono abbastanza situazionali sono quattro torri binate da 102 mm capaci di sparare ogni 2.7 secondi 7 km di autonomia e un danno massimo di 1500 col 7 per cento di fire chance come dicevo prima sono secondarie che utilizzate solo quando prendete qualcuno di sorpresa altrimenti non troverete quasi praticamente mai niente qui stiamo incredibilmente passati miracolosamente in vantaggio il problema è che se guardate il conde il main sono praticamente dietro di noi verso l'agol di conseguenza l'agol non può ed effettivamente andare a contestare un cavolo dovrebbe fare il condello dovrebbe fare il main ma il main praticamente è un bot comandanti è un bot vedete poi il punteggio a fine partita vi renderete conto che è un giocatore che semplicemente si è limitato a comprare la nave ma non ha la riparita di come utilizzarla quella nave e tra l'altro loro hanno ancora un gearing che ha spasso e sarà proprio la nave che sarà l'ago della bilancia di questo match i siluri poi perché lui può lanciare anche torpido sono due lanciatori da 4 uno quindi per lato se lui i classici da 530 millimetri fino a 13 chilometri e mezzo quindi vanno veramente lontano 65 noti di velocità massima con un danno elevato di 16.737 sono tra i più potenti siluri 533 del reparto diciamo inglese barra commonwealth anche se in realtà questa nave come sapete fa parte di un progetto inglese anche se poi non è mai stata realmente costruita infatti per chi fosse interessato veramente alla nave a livello storico si tratta di una nave che deve in realtà essere costruita negli anni 20 direttamente in australia la prima nave costruita in australia classe cruiser e gli inglesi volevano realizzarla sulla base dell'increzzatore hawkins cosa che però poi non è mai andata realmente in porto per quanto riguarda poi il discorso legato all'antiaerea diciamo che riesce a gestire bene le portare tirotto riesce a fare qualcosina con le tire 10 contro portarei come united states non c'è assolutamente difesa l'antiaerea comunque composta da cannoncini da 20 40 e 102 millimetri 200 di danno continuativo non tanto altro per essere un cruiser 1396 radiante fino a 5,8 chilometri questo è un po a livello antiaereo questa fantastica nave sono tante ora e la loria è bersagliata dai bombardieri della united states mentre il conde va verso b scelta che in realtà è sbagliata perché vedete avrebbe dovuto andare verso c prima che lui temeva giustamente l'attacco comandanti della della vermont che sta in piega e incrociando in quella parte non potendo competere perché la vermont di spoiler che praticamente full vita capite anche voi che riunirsi alla flotta era l'unico modo per restare ancora vive con il seno di poi è una scelta che ci sta pure tutta guardate perché la partita sembra effettivamente andare alla nostra direzione ma fidatevi che non è così come sembra perché il garing veramente fra delle cose assurde ma soprattutto la nostra portaerei in combo anche con il nostro main inutile faranno veramente una borribile fine per quanto riguarda poi gli altri consumabili a parte quello che abbiamo già trattato ovvero la cortina famogena e il suo sonar risuotto il suo radar e sottomarino abbiamo poi un repair party classico che recupera 274 hp per 28 secondi con 80 di ricarica che può scendere in realtà a 76 con novembre x foster come sapete con la bandierina che migliora del 5 per cento la ricarica di tutti i consumabili e infine avete il sonar che è un classico sonar più simile agli americani che agli inglesi perché è un sonar che si può in realtà barattare col defensore ma io vi consiglio il sonar per utilizzare nella cortina famogena 3 chilometri e mezzo di spotting sui siluri 5 sulle navi per 132 secondi con 120 di ricarica così siamo che sono a livello statistico tutti i numeri della grande encounter questo super cruiser tier 9 veramente molto molto forte a me è piaciuto tantissimo anche il cerbero è piaciuto anche tanto anche l'uganda come anche come sapete l'okland che abbiamo già portato sul canale ma devo dire che tier per tier la sensazione di forza che mi ha dato il l'encounter non mi ha data nessun'altra nave del reparto commonwealth a livello cruiser della linea diciamo che prese tier per tier le navi questa è effettivamente a tutti gli effetti la nave tier per tier più forte della nuova linea veramente riesce a fare delle cose a dir poco straordinaria veramente straordinaria ora vedrete anche il lato negativo della nave perché vi farò vedere quanto può soffrire a livello di armatura se guardate abbiamo attaccato 856 mila punti non sono poi tanti per un cruiser rivi ma fidatevi che il peggio deve ancora arrivare la loria ha preso il giro troppo largo a questa volta queste abitudini strane di prendere giri super larghi noi stiamo sfruttando un po lo spotting offerto dalla dell'eagle per colpire ovviamente il vermont che tra l'altro sta subendo l'incendio anche a prua cerchiamo quindi di superare a un quarto di velocità perché come sapete questa cortina formogena è la classica fortina formogena granchio la crawling smoke del reparto commonwealth in conseguenza possiamo muoverci un quarto e restare comunque invisibili perché la cortina butta fuori una puff ogni dieci secondi qui comandante si vede tutta la scarsa intelligenza della porta aerea alleata perché vedete in questo caso non si arriva a fare danno si arriva semplicemente a restare lì vicino alla vermont tenerla illuminata e il resto ci avremmo pensato noi il main che comunque da lì può tirare ma soprattutto i nostri cannoni un main così broadside lo possiamo scusate un vermont così broadside lo possiamo tranquillamente smantellare in pochi secondi questo perché le sovrastrutture del main del vermonte soffrono tantissimo i cannoni incendiari di una nave come questa il problema è che la porterie alleata non sembra saperlo qui arriva la medaglia confeder e continua a sganciare danno da questa parte mentre il gearing indisturbato sta prendendo il cap e qui ancora una volta capite come ormai anche le supernavi sono in mano giocatori totalmente scarsi perché la sua priorità era attaccare il gearing e impedire che l'unico cap che in questo momento genera punti siena b andasse in mano del nemico ma lui no lui continua purtroppo ad attaccare quella zona e noi non possiamo ancora entrare nel cap finché la vermont resta in quella zona lì purtroppo quell'intervallo di tempo che ha permesso la vermont di restare ancora galla perché non era spottata sarà poi assolutamente vitale e tra poco ve ne renderete conto ovviamente la eagle viene affondata perché era spottata chiaramente dal gearing che ha preso il cap di alfa e a questo punto non possiamo fare che uscire e attaccare per forza di cose la vermont che tra l'altro è pure riuscita a riparare anche perché la nostra cortina fumogena termina proprio adesso e ora guardate un po cosa voleva dire quando vi spiegavo prima la gigantesca armatura da 25 sulla pro della nave guardate un po la vermont muore ebbene sì comandanti ebbene sì tra l'altro comandanti vi spoiler che c'è un bug sopra nell'interfaccia perché se state notando loro sono a loro sono a 6 e 70 noi a 9 e 46 vi posso assicurare che è esattamente il contrario sono loro che sono in vantaggio netto noi siamo nettamente dietro questa cosa è un bug che purtroppo è arrivato ultimamente su diversi replay offerti dalla wargaming dopo il rilascio della patch recente che di fatto ha lanciato questi questi incrociatori a questo punto noi eravamo usciti perché se guardate il timer comandante non c'è nessuna possibilità di vincere la partita perché anche se noi fossimo sopravvissuti loro avevano comunque qualcosa come circa 200 punti di vantaggio e considerando che il gearing non si farbbe certo ammazzare a questo punto anche perché se guardate e nessuna porteria lo può spottare perché è morta ed è rimasto solamente una flotta battici piuttosto lenta oltre che con decora va a conquistare c la partita sarebbe comunque finita in mano loro perché manca solo un minutino e ormai il punteggio è segnato comandanti comunque ci tenevo a segnalare questo piccolo bug anche perché ho visto che altre persone e altri creator ne stanno soffrendo ma non è non dipende a noi comandanti semplicemente un problema della pace infatti se guardate nonostante lui ci segna mille la partita ovviamente replay ci dà per sconfitti attenzione però al punteggio perché sarà particolarmente interessante guardate i punti quasi 185 mila danni confedere 235 colpi 7 incendi 3 cittadelle diversi colpi anche per quanto riguarda la secondaria quando quelle poche volte siamo andati a contatto qualche ero battuto team score 1886 perdendo il team che ha vinto 1849 abbiamo fatto più xp noi perdendo del primo in classifica della squadra che ha vinto ottima la nostra partita come anche quella del conde come anche quella della loria le uniche tre navi che veramente hanno lavorato pessimo il lavoro finale della eagle sul gearing ma soprattutto il main il main è stato chiaramente l'ago della bilancia negativo di questa purtroppo triste partita queste comandante sono le skill e i model che consiglio a bordo di questa nave se guardate ho fatto una modifica ho inserito la prima skill sulla prima colonna nel quarto livello che di fatto aumenta la ricarica iconica nel qualcuno è spottato al di sotto del vostro raggio da spotting che in questo caso è 10,5 chilometri non può accadere sempre ma considerando che spesso i destroyer fanno questa cosa e di accorciare può capitare come ad esempio accaduto sulle maghiri come anche su sottomarino e altre navi quindi questo ad esempio un setup che potrei anche testare in futuro sul cerbero insieme a altre modifiche anche se in questo caso abbiamo lavorato sulla perdita del modulo delle squadre della skill che aumenta di fatto in circa 15 20 secondi la durata dello smoke in quel caso forse quella extra durata ci avrebbe permesso di restare in questa circostanza ma la partita forse l'avremmo persa comunque per quanto riguarda i moduli sono gli identici moduli c'è poi sempre la scelta sul terzo modulo c'è chi mette la rotazione migliorata come me perché effettivamente il modulo lavora bene e la nave soffre di rotazione e brandeggio altrimenti potete mettere il classico tiro migliorato ma in quel caso migliorerete di pochissimi metri uno di dispersione che già di per sé è veramente molto molto buona perché il tiro avete visto anche voi è particolarmente preciso per quanto riguarda l'armatura dell'encantare la seguente dicevo prima guardate un po' quella gigantesca prua da 25 è un problema gigante anche le torri tra l'altro non hanno un extra fasciame vengono spesso incapacitate la cittadella comandi è effettivamente quel fasciame arancione da 152 non è una spaziatura non è una turtle back non è non so una sorta di guscio protettivo no è la cittadella vera e propria a livello di armatura l'encantare è assolutamente un colabrodo e la vermont viene dato dimostrazione con una salva ci ha tirato giù oltre 30.000 punti vita guardate un po' la cittadella perché è molto molto strana guardate un po' vedete non arriva all'altezza delle torri come altre altre cittadelle si ferma molto prima è terribilmente corta perché addirittura è sotto il torione principale di comando dove sono diciamo il cuore della sala ufficiale della nave ma se notate quella prura da 25 che vi fatto vedere prima è talmente lunga che quando una corretta vi prende nella zona ad esempio vicino alle torri o poco più avanti vicino vicino le ancore della nave il corpo poi entra a diciamo con un'angolatura particolare e poi va a esplodere dove c'è quella gigantezza cittadella che è diversi metri saranno almeno 7 forse 8 metri oltre la linea di galleggiamento è un handicap gigantesco della encounter in questo caso perché veramente a volte quando si mette di prua soffre tantissimo l'overmatch come pochissime altre navi di world of warships veramente un vero e proprio problema gigante che ha questa nave gigante come la sua prua da 25 mm i comandanti per quanto riguarda il bilancio finale è ovviamente un bilancio positivo perché la nave secondo me è molto forte nonostante l'armatura incendia tantissimo, buon mimetismo, fumogeno crawling, siluri fino a 13,5 km, radar antisommergibile triplo attacco aero anti-sub e discreta timoneria queste tra l'altro sono un po' tutte le caratteristiche a parte i siluri che cambiano con l'aumenta di tier che hanno in realtà tutti questi nuovi cruiser del commovel che sono veramente molto buoni e sono felicissimo di questa linea perché mi ha sorpreso molto dopo i primi test hanno stati anche abbaffati durante i test e quindi oggi che sono in rilascio anticipato e poi diventeranno gratuiti in un secondo momento sono veramente delle ottime navi un ottimo modo di cominciare questo 2024 balistica gestibile perché comunque può sfruttare anche le isole nave multiruolo perché può giocare sia vicino ai cap sia in flanking quando ovviamente la cortina è a disposizione e poi ottimi tempi di ricarica se ci pensate un cannone così potente incendiario che spara ogni 8 secondi 8 secondi e mezzo è veramente molto raro da trovare al tier 9 quindi da questo punto di vista l'encounter è un vero e proprio gioiello i punti deboli però sono pesanti la cittadella elevata l'armatura generale inaffidabile estremamente lunga e facile da colpire tra l'altro questi primi tre difetti diciamo che vanno tutti in direzione dell'armatura e non è un caso tra i tre nodi sono pochi per un tier 9 come dicevo prima durante il video quando andiamo a frattura sommergibile è una nave molto lenta da questo punto di vista e poi le torri vengono spesso incapacità come avete visto prima durante la scheda armatura generale sono tutte torri da 25 mm non c'è un extra fasciame anche i tiri di alcuni incrociatori possono tranquillamente farvi molto male e incapacitare quelle torri che a quel punto devono essere velocemente riparate perché comunque sono solo tre torri rispetto a altre navi questi sono un po' i problemi ma anche i tanti pregi di questa nave che secondo me è veramente molto molto forte anche se è incredibilmente fragile di questo più che un cruiser pesante sembra effettivamente un light cruiser che poi in realtà sono incrociatori leggeri fino al tier 7 come sapete solo dall'uclain in avanti il ramo del commonwealth diventa effettivamente incrociatore pesante che dire dall'encantare è tutto con questo punto possiamo anche passare sul finale di video vi ricordo come sempre che siamo online una settimana su twitch dal lunedì al venerdì a volte anche la domenica dopo le 20 giù nell'info box c'è il link al nostro canale seguiteci anche lì se volete ma soprattutto se volete darci una mano e dare veramente una mano alle nostre produzioni c'è la possibilità di abbonarsi alla blizzacad di diventare dei giocatori che sono i propri pilastri di questo canale con amazon prime non pagate assolutamente nulla basta collegare amazon a twitch ottenere quindi prime gaming e a quel punto potrete abbonarvi per 30 giorni a costo zero avrete il vantaggio di non vedere la pubblicità di utilizzare le emoji degli abbonati di vedere anche le live registrate quando il canale è offline quindi potete vedere veramente il canale a qualsiasi ora del giorno o della notte un grazie sempre grande a chi si attiva in questo modo anche perché l'abbonamento poi appunto è gratuito e ci dà veramente la possibilità di migliorare lo studio e tutte le nostre produzioni tra i mari di world of warship comandanti adesso ho scritto un abbraccio un saluto anche dall'ammiraglio grigio lo si tentiamo possibilmente sabato con un nuovo video qui sul canale di youtube mi ricomando twitch e come sempre buona caccia grazie a tutti